Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Io vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. A volte il desiderio insaziabile di vendetta di un'anima rancorosa può culminare in un atto di violenza talmente atroce da lasciare un'intera comunità sotto shock. È il 2011 e ci troviamo in Inghilterra, precisamente a Wotton, un villaggio del Northamptonshire, dove si percepisce la presenza di antiche radici. Spiccano le case di pietra del XVII e XVIII secolo, la cui architettura ricorda tempi lontani, quando i tetti erano di paglia. È una zona molto tranquilla dove gli abitanti si conoscono tutti e spesso, quando si incontrano per le strade del paese, si fermano volentieri a chiacchierare tra loro. Insomma, sembra un bel posto in cui vivere, perché i residenti sono gentili e premurosi l'uno con l'altro. Tra loro ci sono i membri della famiglia Ding, protagonista di questo caso. La famiglia Ding è composta dai coniugi Jeff ed Ellen e dalle loro figlie Xing e Alice. Jeff ed Ellen sono entrambi nati intorno alla metà degli anni Sessanta e provengono dalla Cina orientale, ma si sono trasferiti nel Regno Unito nel 1990. La coppia mette al mondo la prima figlia Xing nel 1993 e poi, circa sei anni dopo, nel 1999, nasce la secondogenita Alice. Jeff Ding è un docente universitario di scienze alla Manchester Metropolitan University ed è anche specializzato in chimica. È un uomo particolarmente intelligente, ma anche un ottimo insegnante, sempre propenso a supportare i suoi studenti, che lo apprezzano molto. Anche la moglie di Jeff, Ellen, lavora nel campo dell'istruzione. Lei insegna lingue ed è altrettanto brava e amata dai suoi allievi. Nel 2011, all'epoca in cui si verifica il caso, la primogenita Xing ha 18 anni e si sta preparando per cominciare l'università. È una ragazza brillante che ha deciso di studiare medicina all'Università di Nottingham. Una delle sue passioni principali è la musica. Xing è una violinista talentuosa ed è descritta come una persona amichevole, calma, ma anche divertente. Proprio il suo insegnante di musica dice che ha un ottimo senso dell'umorismo, è acuta nel fare battute, ma anche molto premurosa. Xing è un'ottima sorella maggiore per Alice, che ha 12 anni e si sente protetta da lei. Anche Alice è intelligente e ama moltissimo la musica, come Xing. Infatti spesso suonano il violino insieme. Alice è descritta come una persona vivace, sorridente, estroversa e sempre attiva. Il suo colore preferito è il giallo, che non a caso è il simbolo di energia e solarità. Insomma, i Ding sono una famiglia felice, vanno d'accordo con tutti i vicini e coloro che li conoscono li descrivono come persone gentili e accoglienti, che fanno sempre sentire gli ospiti benvenuti a casa loro. Conducono una vita soddisfacente sotto ogni aspetto, vivono in una bella casa, collocata in un ottimo quartiere, Jeff ed Ellen svolgono un buon lavoro e Xing e Alice hanno successo negli studi. Proprio perché tutto procede per il meglio, i residenti del quartiere rimangono sbigottiti, quando improvvisamente non hanno più notizie della famiglia Ding. Siamo tra la fine di aprile e l'inizio del maggio 2011, un weekend festivo in cui ricorre la celebrazione del matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Le strade di Wharton si riempiono di festeggiamenti, molti cittadini organizzano dei piccoli ricevimenti in giardino per brindare alle nozze reali. Tutti sono presenti, tranne la famiglia Ding, che non viene vista o sentita da nessuno da un po' di giorni. Durante questo fine settimana Xing avrebbe dovuto partecipare a un evento, ma non si è mai presentata ed è strano che non abbia avvisato della sua assenza chi la stava aspettando. I vicini della famiglia Ding iniziano a preoccuparsi seriamente. Così, domenica 1 maggio 2011, uno di loro bussa alla porta di casa dei Ding per controllare che stiano bene, ma non riceve risposta. Sembra che nell'abitazione non ci sia nessuno. Il vicino però decide di approfondire, così raggiunge il retro della casa e cerca di guardare attraverso le finestre. Sbirciando oltre quella della cucina, rimane inorridito da ciò che vede, perché sul pavimento c'è un cadavere. Il vicino contatta immediatamente la polizia che si precipita sulla scena. Gli agenti non individuano soltanto quel cadavere sul pavimento della cucina, ma ispezionano tutta la casa scoprendo altri tre corpi senza vita. Tutti i membri della famiglia Ding sono morti, assassinati nella loro abitazione. Il primo cadavere avvistato, quello presente in cucina, appartiene a Jeff Ding. È accasciato accanto a un termosifone e riporta ferite da taglio su tutto il corpo e anche alcune ferite da difesa, come tagli e graffi sulle braccia. Il secondo cadavere ritrovato è quello della moglie di Jeff, Helen, riverso sul pavimento dell'ingresso, nei pressi della cucina. Anche lei ha subito diverse ferite da coltellata. È stata pugnalata circa 13 volte. Invece, i cadaveri delle giovani figlie dei coniugi Ding sono apparsi dopo che gli agenti hanno salito le scale. Quello della diciottenne Xing giace sul pavimento della camera da letto e alcune fonti affermano che ha assunto una posizione di preghiera. Come i genitori, è stata pugnalata ripetutamente su tutto il corpo. Anche la dodicenne Alice è stata rinvenuta nella camera della sorella maggiore. È distesa sul letto ed è stata accoltellata a morte. La polizia deve scoprire al più presto perché questa famiglia è stata vittima di un'aggressione così brutale e feroce. Appena la notizia del quadruplice omicidio diventa pubblica, tutti gli abitanti di Wharton e delle zone vicine sono terrorizzati. Anche perché i crimini efferati sono rari da queste parti. Siccome i residenti non conoscono le circostanze di questa orribile strage, temono che l'assassino possa colpire di nuovo che sia un serial intenzionato a introdursi in altre abitazioni. L'indagine per omicidio è stata ormai avviata e la polizia elabora diverse teorie sull'accaduto. Considera anche l'ipotesi dell'omicidio suicidio. Forse uno dei due coniugi aveva deciso di uccidere l'altro, le figlie e infine se stesso. Ma questa dinamica viene presto esclusa in ragione della modalità di attuazione del delitto. Tutti i membri della famiglia sono stati accoltellati ripetutamente ed è improbabile che un potenziale suicida avesse utilizzato questo metodo, sarebbe stato troppo doloroso e avrebbe richiesto un'immensa forza, dato che le ferite inferte erano tanto profonde. Inoltre tutti i membri della famiglia hanno riportato delle ferite da difesa, dunque ognuno di loro ha provato a combattere per la propria vita. Se l'assassino fosse stato uno di loro, almeno lui non avrebbe dovuto presentare questo tipo di lesioni. Un'altra teoria avanzata all'inizio dell'indagine riguarda il furto con scasso finito male, ma risulta altrettanto improbabile perché la casa non è stata saccheggiata e non si riscontrano segni di ingresso forzato nella proprietà. Dunque il feroce attacco non è opera di un ladro o di uno sconosciuto. La rabbia che ha guidato l'assassino suggerisce che la famiglia Ding sia stata uccisa da qualcuno che conosceva. Innanzitutto la polizia deve risalire al momento effettivo della loro morte. Sappiamo che i Ding non sono stati più visti in giro per giorni, dunque quando era avvenuto il delitto? La polizia conduce delle indagini di casa in casa, coprendo tutta la zona circostante, chiedendo informazioni ai vicini. Hanno visto o sentito qualcosa? E quando? Purtroppo queste interviste non spianano alcuna pista, sembra che nessuno sappia nulla, ma alla fine la polizia riesce a stabilire la data e l'ora della morte dei Ding grazie al lavoro dei patologi. Esaminando i corpi delle vittime, gli esperti sono in grado di determinare che i membri della famiglia Ding sono morti circa due giorni prima rispetto al momento della scoperta dei cadaveri avvenuta domenica primo maggio. Dunque sono stati uccisi mentre erano in casa propria durante il pomeriggio di venerdì 29 aprile. Nel frattempo i loro corpi hanno chiaramente iniziato il processo di decomposizione e questo intervallo di tempo tra gli omicidi e il ritrovamento dei cadaveri ha reso l'indagine più complicata. Perché l'assassino ha avuto a disposizione più tempo per fuggire. Chissà se è riuscito a scappare dal paese, potrebbe essere ovunque in questo momento. La polizia, che ha messo in sicurezza la scena del crimine, viene coadiuvata dalla squadra forense. Intenta raccogliere qualsiasi potenziale prova. Emerge così la probabile arma del delitto, quindi l'assassino l'aveva lasciata a casa delle vittime. Si tratta di un coltello adagiato sul piano della cucina, che a prima vista sembra pulito, ma la scientifica vi rileva delle piccole tracce di sangue. Quindi il colpevole non lo ha lavato a dovere. Questo vuol dire anche che il quadruplice assassino è rimasto per un po' di tempo a casa dei Ding dopo gli omicidi. Non è fuggito subito dalla scena del crimine. Il che risulta piuttosto strano, ma questa non è l'unica stranezza che la polizia ravvisa. Infatti, nella cassetta della posta trova un biglietto da visita della polizia del West Midlands. Riguardo a questa circostanza emerge che la polizia aveva bisogno di parlare con Jeff e Dylan Ding in relazione a un'altra indagine. La mattina di domenica 1 maggio, un paio di poliziotti si sono presentati a casa Ding, ma non hanno ricevuto risposta, quindi hanno lasciato il biglietto da visita nella cassetta delle lettere, chiedendo a Jeff di mettersi in contatto con la polizia di West Midlands. Poi gli agenti se ne sono andati, inconsapevoli del motivo per cui nessuno aveva aperto la porta. Tutta la famiglia era già deceduta in quella casa. La scoperta è avvenuta alcune ore più tardi grazie alla segnalazione del vicino preoccupato che ha intravisto dalla finestra della cucina il corpo senza vita di Jeff. Comunque, appena gli investigatori trovano questo biglietto da visita nella cassetta della posta dei Ding, intendono approfondire il motivo per cui la polizia voleva parlare con Jeff. Questa questione potrebbe avere un collegamento con gli omicidi? Dopo alcune ricerche emerge che la polizia aveva bisogno di interfacciarsi con Jeff Ding per indagare su una persona scomparsa. Infatti il 29 aprile un uomo di nome Axiang Du era sparito nel nulla e i coniugi Ding lo conoscevano abbastanza bene. Forse avevano qualche informazione utile da fornire? Axiang Du ha 52 anni ed è anche lui originario della Cina. Si è trasferito insieme alla moglie Kan Chen nel Regno Unito alla fine degli anni 90. Gli avevano avviato un'attività, ovvero un negozio di rimedi erboristici a Birmingham, gestita proprio insieme a Jeff ed Ellen. Infatti poco dopo l'arrivo in Inghilterra, Kan Cheng ed Ellen Ding si erano incontrate ed erano diventate buone amiche. Erano state le due donne a mettere in contatto i rispettivi mariti e anche loro avevano fatto amicizia. La sintonia tra le due coppie le aveva spinte ad avviare insieme quel business, l'attività di erborista. Gestivano tre negozi in totale e gli affari andavano bene. I Ding erano soddisfatti e orgogliosi della società messa in piedi. Tuttavia presto la situazione aveva preso una brutta piega. Infatti alla fine del 1999 le due famiglie avevano iniziato ad avere disaccordi sul lavoro. Jeff ed Ellen avevano chiesto ai coniugi Du di lasciare l'attività, accusando Axiang di alcune irregolarità finanziarie. I Ding credevano che lui stesse rubando dei soldi dall'azienda. Axiang Du, fortemente risentito, e sua moglie Kang Chen erano stati coinvolti in una disputa legale. Avevano avviato un procedimento contro i Ding, convinti di essere stati licenziati dalla partnership ingiustamente. Questa faida andava avanti da anni e anni, annoverando diverse controversie e battaglie legali tra le due famiglie. Siccome i procedimenti giudiziari erano molto, molto costosi, Axiang Du aveva provato a vendere la casa in cui viveva in Ding. Dovete infatti sapere che questa abitazione risultava come parte della loro attività, a causa di un complesso accordo commerciale di cui non vi riporto i dettagli. Dunque, Axiang Du riteneva di vantare il diritto di venderla per ottenere una quota e finanziare le sue azioni legali. Tuttavia, questa scelta non era andata a suo favore. La corte aveva stabilito che, in realtà, lui non possedeva nessuna parte dell'immobile. Di conseguenza, un'ordinanza del tribunale gli aveva impedito di tentare di venderlo. Axiang Du aveva perso l'intera causa legale contro i Ding, e non molto prima dell'omicidio di questi ultimi, lui e Kang Chen avevano ricevuto un'ingiunzione del tribunale che ordinava loro di rimborsare ai Ding 88.000 sterline. Questa ingiunzione era stata notificata agli interessati proprio il giorno prima che la famiglia Ding venisse uccisa nella sua abitazione. Nella sera del 28 aprile 2011, gli ufficiali del tribunale erano andati a casa di Axiang Du per consegnargli i documenti in questione, i quali spiegavano dettagliatamente perché lui e sua moglie dovevano corrispondere ai Ding 88.000 sterline. Kang Chen riferisce che il marito aveva reagito alla notizia con agitazione, rabbia e irrequietudine. Non aveva dormito per niente quella notte, aveva camminato avanti e indietro nella stanza per ore e ore. Era preoccupato perché non potevano permettersi una cifra del genere, non disponevano di 88.000 sterline, quindi Axiang Du si sentiva costretto a dichiarare bancarotta. Poi, la mattina dopo, il 29 aprile, cioè il giorno del quadruplice omicidio, Axiang Du era scomparso. Era uscito di casa quella mattina e aveva detto a sua moglie che sarebbe andato al negozio di erboristeria di Birmingham, ma non era mai arrivato lì, né era più tornato a casa. Non aveva contattato Kang Chen per farle sapere dove si trovasse. E questo era davvero insolito per Axiang. Così lei, preoccupata del suo stato di malessere mentale, aveva chiamato la polizia per denunciare la scomparsa del marito. Il giorno dopo, il 30 aprile, la polizia si era recata nel suo negozio a Birmingham, ma non aveva trovato nessuno. Tuttavia, Axiang aveva lasciato un biglietto per sua moglie. Era scritto in cinese e una volta tradotto aveva destato ulteriori preoccupazioni, perché l'uomo, attraverso quelle righe, aveva detto addio a sua moglie. La polizia aveva dedotto che Axiang Du stesse progettando di togliersi la vita a causa di tutto lo stress subito per via della battaglia legale e delle relative spese da sostenere. Così dopo aver appreso delle controversie in atto tra Axiang Du e Jeff ed Ellen Ding, il primo maggio 2011 gli agenti avevano deciso di fare visita a questi ultimi a Wharton in cerca di informazioni sull'uomo scomparso. Come sappiamo, non avevano ricevuto risposta. Nessuno aveva aperto loro la porta, per cui avevano concluso di infilare un biglietto da visita nella cassetta delle lettere chiedendo ai coniugi Ding di mettersi in contatto con la polizia il primo possibile. I Ding, però, non avrebbero mai potuto farlo perché erano già senza vita da un paio di giorni. Precisamente da venerdì 29 aprile, lo stesso giorno della sparizione di Axiang. A questo punto, la polizia identifica un potenziale sospettato nel caso di omicidio della famiglia Ding. Chiaramente, Axiang Du, che aveva un movente piuttosto solido. Anzi, è l'unico ad averlo. Sappiamo che era stato coinvolto in una disputa legale e finanziaria per anni, che di recenti i Ding avevano vinto la causa e quindi Axiang Du doveva pagare 88.000 sterline. Sua moglie, Can Chen, aveva riferito che lui era molto angosciato, nervoso e incollerito la notte prima degli omicidi, mentre, dal giorno stesso del delitto, non era più tornato a casa. Quindi, forse, quel biglietto di addio per sua moglie non alludeva all'intenzione di un suicidio, ma il piano era quello di togliere la vita alla famiglia Ding per scappare. Questo non esclude, comunque, che ora Axiang voglia farla finita per non dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. La polizia deve assolutamente rintracciare l'uomo che considera come l'autore del reato e il prossimo passo è ricostruire i suoi movimenti nel giorno del delitto. Chiaramente non basta che Axiang abbia un movente valido, servono prove concrete e solide per inchiodarlo al crimine. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso del negozio a Birmingham dimostrano che quella mattina del 29 aprile lui era davvero stato lì. Del resto lo prova anche il biglietto di addio per sua moglie. In seguito era stato avvistato alla stazione ferroviaria. Axiang Du è l'uomo vestito in arancione. La polizia riesce a stabilire chi aveva preso un treno da Birmingham per Northampton percorrendo un tragitto di circa un'ora. Una volta arrivato a destinazione il sospettato era stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza alla stazione degli autobus. Era salito su un pullman che l'aveva portato proprio a Wharton il villaggio dove la famiglia Ding viveva. L'autobus era arrivato lì intorno alle 13.25 e Axiang Du si era avvicinato al conducente prima di scendere per chiedere gli indicazioni per arrivare a Pioneer Close la via in cui si trova la casa dei Ding. Tuttavia pare che l'autista gli avesse dato delle indicazioni sbagliate perché Axiang faceva fatica a raggiungere l'abitazione. Infatti era entrato in un negozio locale in cerca di ulteriori indicazioni stradali. Questi filmati e testimonianze consentono alla polizia di collocare effettivamente il principale sospettato nel luogo e nel giorno in cui sono avvenuti gli omicidi. Ecco una prova che collega Axiang Du al crimine. La polizia inoltre riceve delle informazioni da un cittadino che vive vicino alla casa dei Ding il quale dice che tra le 15 e le 16 del pomeriggio del 29 aprile dunque il giorno del delitto aveva visto un uomo che sembrava essere cinese fuori dall'abitazione della famiglia e la polizia non ha dubbi che quell'uomo fosse proprio Axiang Du non doveva essere passato molto tempo da quando aveva eseguito l'omicidio. Dopo aver ricostruito i suoi movimenti prima del delitto ora la polizia deve risalire a cosa Axiang Du aveva fatto dopo dove era andato dopo il massacro della famiglia Ding purtroppo questa seconda parte dell'indagine si rivela più difficile visto che il sospettato non appare in nessun video girato dalle telecamere a circuito chiuso come se non fosse salito su nessun autobus treno o taxi tuttavia la polizia scopre presto che poco tempo dopo prima dell'omicidio la macchina dei Ding si trovava dal carrozziere per un tagliando e in questo periodo gli era stata consegnata un'auto di cortesia una box hall corsa argentata che però al momento del rinvenimento dei quattro corpi non era parcheggiata fuori dalla casa era sparita anch'essa come il sospettato la polizia conclude che Axiang Du l'aveva rubata dopo il delitto per allontanarsi dalla scena del crimine a questo punto la polizia fa un appello televisivo chiedendo la collaborazione del pubblico bisogna segnalare ogni avvistamento di Axiang Du o dell'auto rubata ma senza avvicinarsi a lui perché è molto pericoloso inoltre la polizia si avvale delle telecamere per il riconoscimento automatico delle targhe e riesce a individuare la macchina dopo l'omicidio alle 21.45 è inquadrata in una stazione di servizio appena fuori dalla zona di Northampton sull'autostrada M1 il filmato mostra Axiang Du che si ferma per prendere qualcosa da mangiare e da bere inoltre acquista un libro contenente delle mappe da consultare durante la fuga la polizia fatica a capire dove si fosse diretto dopo perché le sue tracce non compaiono su altre telecamere di riconoscimento delle targhe è preoccupante il vantaggio di cui il sospettato sta godendo dal 29 aprile come detto aveva avuto due giorni di tempo per agire indisturbato prima della scoperta dei corpi delle sue vittime avvenuta il primo maggio potrebbe aver lasciato il paese la polizia lo cerca costantemente da giorni ma non riesce a trovarlo da nessuna parte poi due settimane dopo gli omicidi gli inquirenti ricevano finalmente una segnalazione sull'auto di cortesia rubata un testimone la vista parcheggiata sul ciglio di una strada a St. John's Woods a Londra la polizia arriva sul posto e la individua quindi Axiang si era semplicemente spostato da Northampton a Londra un tragitto di 90 minuti di macchina era riuscito a raggiungere la capitale completamente inosservato perché lungo il percorso che aveva scelto non ci sono telecamere di riconoscimento targhe la macchina è stata abbandonata in quella strada laterale del quartiere londinese di St. John's Wood Axiang Du l'aveva parcheggiata in un posto dove le auto non possono sostare senza aver pagato dunque un vigile urbano gli aveva lasciato una multa sul parabrezza anzi si evidenziano ben nove verbali il che significa che la macchina è parcheggiata lì da un bel po' di tempo dalla visione delle riprese delle telecamere a circuito chiuso presenti in quella strada laterale si nota che l'auto era stata abbandonata lì proprio nelle ore successive gli omicidi precisamente alle due di notte del 30 aprile e l'uomo che appare nel filmato di sorveglianza corrisponde alle sembianze di Axiang Du lui non era mai tornato a riprendere la macchina l'aveva usata soltanto per raggiungere Londra purtroppo la polizia ha impiegato 11-12 giorni per rintracciarla ma l'auto si trova in quel parcheggio da almeno due settimane un lasso temporale in cui Axiang Du potrebbe essere arrivato più o meno ovunque pur non escludendo che il sospettato avesse lasciato il paese la polizia per il momento lo cerca Londra una città dove vivono milioni di persone in cui Axiang avrebbe potuto considerare conveniente nascondersi gli agenti si concentrano sulla zona di Chinatown dialogando con i residenti e distribuendo dei poster con la faccia di Axiang Du oppure li attaccano nelle vettrine dei negozi ma non riescono a trovarlo evidentemente il sospettato pur non riuscendo a orientarsi bene e sbagliando spesso strada come riferisce chi lo conosce stavolta non aveva chiesto indicazione a nessuno oppure si era nascosto in una zona di cui aveva familiarità in ogni caso le ricerche a Chinatown si rivelano un enorme spreco di tempo perché Axiang Du non è più neanche in Inghilterra la polizia continua a cercarlo per mesi ma non lo rintraccia perché l'uomo poco dopo aver abbandonato l'automobile a Londra si era diretto in Francia salendo a bordo di un pullman dalla Francia poi si era recato in Spagna e infine dalla Spagna aveva preso un traghetto per il Marocco lungo questo tragitto diverse persone lo hanno notato e hanno contattato la polizia che così ha scoperto i suoi movimenti dunque inizia una caccia all'uomo di misura internazionale e la polizia offre 25.000 sterline come ricompensa nel tentativo di incoraggiare i testimoni a farsi avanti dopodiché arrivano oltre 380 segnalazioni di avvistamenti in realtà è un bene che la gente si faccia avanti ma la polizia impiega molto tempo per esaminare la validità di tutte le informazioni ricevute vagliandole una per una e alcune risultano confusionarie ed errate come quelle secondo le quali Aksiang Du si trova ancora a Londra dalla spagna in cui Aksiang Du si è recato certamente i detektivi registrano un appello televisivo sul canale dove va in onda la versione spagnola di Crime Watch trasmesso però anche in Marocco sia questo appello televisivo che i giornali marocchini sui quali è apparsa la faccia del ricercato portano finalmente la polizia a una svolta un uomo che lavora in un cantiere edile in Marocco contatta le autorità perché ha riconosciuto la foto del sospettato del quadruplice omicidio lavora nel suo stesso cantiere come operaio le indagini rivelano che si tratta proprio di lui Aksiang Du anche se sta utilizzando un falso nome finalmente nell'estate del 2012 Aksiang viene arrestato circa 14 mesi dopo gli omicidi era in fuga da un anno e due mesi era arrivato in Marocco cinque giorni dopo l'omicidio dei Ding ed era stato lì per tutto il tempo lavorava come operaio e dormiva in quel cantiere perché non aveva un posto dove vivere in pratica restava lì giorno e notte per di più dopo il suo arrivo in Marocco Aksiang era stato pure arrestato con l'accusa di essere un immigrato illegale ma era stato rilasciato perché le autorità non avevano prove sufficienti in sostanza gli era stato permesso di rimanere in Marocco e all'epoca la polizia del territorio non poteva intuire che lui fosse ricercato in Inghilterra per un crimine gravissimo nel luglio del 2012 Aksiang Du viene portato in prigione mentre la polizia del Regno Unito avvia il processo di estradizione che dura circa sei mesi una volta rientrato in Inghilterra Aksiang Du viene accusato degli omicidi della famiglia Ding ma nonostante tutte le prove che la polizia ha contro di lui e nonostante fosse chiaramente scappato l'imputato si dichiara non colpevole anche se non nega di aver commesso il delitto la sua squadra di difesa sostiene che bisognerebbe condannarlo per omicidio colposo perché Aksiang non era sano di mente al momento degli omicidi cioè aveva perso il controllo Aksiang Du afferma che non era andato a casa dei Ding con l'intenzione di pugnalare tutti a morte ma per discutere della battaglia legale che lo aveva mandato in crisi però una volta arrivato lì lui e Jeff avevano iniziato a litigare così Aksiang aveva completamente perso la testa finendo per l'uccidere i quattro membri della famiglia tuttavia la polizia e l'accusa non credono alla sua avversire dei fatti sulla perdita del controllo la versione dell'accusa invece è la seguente il 29 aprile 2011 giorno del quadruplice omicidio Aksiang Du era furioso con i Ding perché aveva perso la disputa legale e fidanziaria contro di loro la sera prima gli era pure stata notificata l'ordinanza del tribunale la quale stabiliva che doveva pagare i danni alla famiglia Ding per un ammontare di 88.000 sterline Kang Chen aveva riferito che il marito non aveva chiuso occhio tutta la notte aveva continuato a vagare nella stanza per ore e ore e si ritiene che proprio in questo momento aveva deciso di vendicarsi di Jeff e di Ellen Ding la mattina seguente era andato al suo negozio a Birmingham gli aveva scritto il biglietto di addio per sua moglie intenzionato a scappare dopo gli omicidi proprio lì come era poi emerso aveva recuperato un coltello da cucina ovvero l'arma del delitto basta questo a suggerire che i delitti erano stati pianificati Hang Xiang non aveva davvero perso il controllo discutendo con Jeff Ding in quanto si era armato di coltello ore prima se non aveva intenzione di sterminare la famiglia perché avrebbe dovuto portarlo con sé dopodiché l'imputato era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre saliva su un treno che da Birmingham le avrebbe portato a Northampton una volta arrivato a destinazione aveva preso un autobus per raggiungere il villaggio di Wutton dove abitavano i Ding prima di scendere alla sua fermata aveva chiesto indicazioni stradali per Pioneer Close all'autista e dopo un po' anche i dipendenti di un negoziato locale deciso a trovare la casa dei Ding raggiunta la meta invece di bussare alla porta d'ingresso aveva fatto il giro fino ad arrivare sul retro della proprietà ed era entrato attraverso il cancello lì presente erano circa le 15.20 del pomeriggio dopo l'irruzione a Xiang Du si era imbattuto in Jeff Ding in cucina i due uomini avevano iniziato a discutere l'imputato aveva estratto il coltello da cucina gli aveva aggredito la vittima pugnalandola per 23 volte Ellen avvertendo il trambusto si era avvicinata allora a Xiang Du gli aveva inferto 13 coltellate ma l'assassino non bastava uccidere i coniugi cioè le due persone con cui aveva avuto la faida voleva eliminare anche le loro figlie Xing e Alice due ragazzine innocenti che percependo le urla dei genitori si erano nascoste terrorizzate al piano di sopra insieme nella camera da letto della sorella maggiore Alice che aveva il cellulare con sé al momento dell'aggressione aveva anche chiamato il 999 ma l'operatore che le aveva risposto non era riuscito a comprendere le sue parole l'unica cosa che sentiva erano urla femminili la telefonata era durata 20 secondi ma la polizia non aveva notato un errore nel sistema di tracciamento delle chiamate finendo con l'inviare gli ufficiali a un indirizzo diverso dove infatti non verrà riscontrato nulla di anomalo le due sorelle non avevano avuto il tempo per spiegare con calma cosa stava succedendo perché mentre era in corso la telefonata Ang Siang Du stava salendo le scale poi era entrata nella camera da letto e le aveva pugnalate entrambe le sorelline si erano viste morire a vicenda molte persone si interrogano sulla ragione di tutto questo ulteriore orrore di questa spietatezza ingiustificata perché l'assassino ha avvertito il bisogno di uccidere quelle due ragazzine di 18 e 12 anni prive di colpe che non avevano nulla a che fare con le battaglie legale dei loro genitori i contrasti erano iniziati quando Xing era molto piccola e Alice non era nemmeno nata con quale coraggio quest'uomo ha ucciso così brutalmente un adolescente e una bambina senza provare il minimo rimorso o alcun tipo di turbamento intanto la polizia aveva creduto che quella telefonata al 999 fosse uno scherzo perché nella casa dove gli agenti si erano recati erroneamente non gli aveva aperto nessuno vi ricordo che quello era un fine settimana dedito ai festeggiamenti per il matrimonio reale se la polizia fosse arrivata all'indirizzo corretto avrebbe colto Aung Siang Du sul fatto e lo avrebbe arrestato immediatamente visto che lui non aveva lasciato la casa delle vittime subito dopo gli omicidi bensì era rimasto lì ascoltate bene per circa sei ore dopo aver eliminato tutta la famiglia Ding Aung Siang era andato a dormire aveva fatto un pisolino nella casa dove aveva appena ammazzato quattro persone quando si era svegliato aveva lavato l'arma del delitto nel lavandino vicino al corpo senza vita di Jeff e aveva lasciato il coltello sul piano della cucina dopodiché aveva rubato dei contanti e le chiavi della macchina che i Ding stavano usando in modo da poter fuggire aveva guidato fino a Londra poi aveva abbandonato l'auto ed era partito per la Francia dalla Francia si era spostato in Spagna e infine aveva raggiunto la sua destinazione il Marocco cinque giorni dopo gli omicidi Aung Siang era rimasto nascosto in Marocco per 14 mesi e finalmente era stato arrestato nel luglio del 2012 il processo a carico di Aung Siang Du dura circa due settimane poi la giuria si ritira per deliberare il verdetto emesso il 28 novembre 2013 dimostra che i giudici sono d'accordo con l'accusa infatti il 54enne Aung Siang Du viene condannato all'ergastolo con un minimo di 40 anni di carcere prima che possa essere prese in considerazione la libertà vigilata ma a quel punto Aung Siang avrà circa 90 anni quindi è molto probabile che passerà il resto della sua vita dietro le sbarre il detenuto prova ad appellarsi contro la sua sentenza nel giugno del 2014 ma la sua richiesta viene rigettata venendo alle riflessioni conclusive questo è davvero un caso atroce come accennato trovo orribile che quest'uomo abbia ucciso persino alle figlie di Jeff ed Helen mi chiedo dove abbia trovato il coraggio di pugnalare una bambina di 12 anni e una ragazza di 18 anni spero vivamente che Aung Siang Du non venga mai rilasciato di prigione mi chiedo poi se davvero i vicini non avessero sentito nulla di allarmante visto che Helen Jeff Xing e Alice avevano urlato forse avevano fatto finta di nulla per timore inoltre la rabbia di Aung Siang Du per quei risvolti finanziari era evidente ma come aveva fatto a pensare che commettere quattro omicidi fosse una prospettiva migliore di dichiarare bancarotta e con quale faccia si era dichiarato non colpevole lo so lo so nei processi la difesa cerca ogni modo possibile pur di scagionare il proprio cliente ma sostenere che Aung Siang Du non avesse premeditato l'omicidio prima di dirigersi a casa dei Ding è a dir poco ridicolo lui aveva rimuginato tutta la notte architettando questo piano malevolo oltre che per le quattro vittime in secondo luogo sono dispiaciuta anche per la moglie di Aung Siang Du non ho trovato molte notizie su di lei in realtà non ho neanche trovato una sua foto ma deve essere stato terribile scoprire ciò che aveva fatto il marito e soprattutto è frustrante sapere che se la polizia non avesse sbagliato indirizzo quest'uomo feroce sarebbe stato arrestato immediatamente Jeff e Dylan erano due professori stimati Xing e Alice due giovani violiniste di talento con un futuro radioso ancora da costruire nessuno di loro meritava di morire eppure la sete di denaro e di vendetta ha distrutto la vita di un'intera famiglia detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video ovviamente sono molto curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni quindi non vedo l'ora di leggere i vostri commenti qui sotto e insomma scrivetemi quello che avete provato ascoltando questo caso quali sono le vostre idee le vostre opinioni e questo è davvero un caso molto triste è triste uccidere un'intera famiglia composta anche da una bambina di 12 anni una ragazza di 18 anni per del denaro per vendetta Ang Siang Du ora passerà tutta la vita dietro le sbarre o almeno quella che gli rimane e sua moglie dovrà vivere da sola consapevole che suo marito ha commesso davvero un gesto atroce togliendo la vita a quattro persone innocenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo il prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti a presto a presto